Ciao! Ciao! Che giorno è oggi? 8 dicembre 2019. Gennaio. E noi siamo col tetto giù. E si sta bene comunque, dai. E che dire? Che dire? Bello, bello, bello. Ci aspetta una bella estate, diciamo, di consumi perché comunque... Un'estate di consumi. Un'estate di consumi, però all'aria aperta. A respirare l'aria pulita, a salutare gente. Ciao, ciao, grande, ciao, ciao. Eh, sai. No, ma comunque sono cose che... come si dice? Eh, mi mancano solo gli occhiali da sole, ma... Gli robiti. E anche bello andare in giro con gli occhi chiusi. Beh, vabbè. Che dire? Ci salutiamo. Ci salutiamo. Oh, buon anno, eh. Buon anno.